Allora, questa ragazza è stata la mia ex, però è una ragazza. Siccome in tanti non credono che sono stata in carcere, vi posso garantire che mi ha sopportato per tre anni. Quindi vi presento… A parte quello, purtroppo, quando Fabio è stato arrestato, stavo insieme a me. Stavo insieme a Elena. Ok, però siccome in tanti mi dicono… Ah, Fabio, guardate quanto è bello. Oh, Elena, ma quando ci mettevi, ci rimettevi insieme? Ma oh, Elena, ti giuro che mi comporto bene. Sto in giro mi comporto bene. Ci rimettiamo insieme? Ci rimettiamo insieme. Uno sento che sono di plastica. Eh, vabbè. Ah, mi piace di plastica, vero? Dovete capire una cosa, ragazzi. Le donne belle, le donne belle, si rifanno un po' il labretto. Si rifanno un po' il labretto, si rifanno un po'. La bocca la devo rifare, lo sai. La devi rifare, la bocca? Sì. Sto aspettando il chirurgo russo dopo il corpo. Però, però, i miei fanni li fai svenire. Gli fai, quanto sei bella. Ma quanto sei bella. Ero in diretta live di live. Ero in diretta live? Ho capito. Allora, comunque, vi presento gli Elena, ragazzi. Se volete vedere una bellissima ragazza, andatene sul profilo, perché è paurosa. Comunque, non ti preoccupare che ti venga a trovare a Milano, non ricorda. Elena, non ti che ridi. Tant'altro, uno poi ti castigo, lo sai. Ti castigo dopo. Già, che abbiamo fatto. Comunque, mi ha fatto piacere che voi sei voluto entrare in diretta stasera, veramente. Lo sai che ti voglio tanto bene. Anch'io. E ricordatevi, ragazzi, ricordate che persone intelligenti, dopo l'amore, c'è anche l'amicizia. Perché c'è il rispetto. E lei è una ragazza che rispetto molto. Gli voglio tanto bene perché nel momento di bisogno mi ha scritto anche una lettera e mi è stata tanto vicina. E questo l'ha perso molto. Una. Più di una. Più di una. Tre anni di lettere, Fabio. Eh, lo so. Quindi volevo dire a tutti quelli che dicevano Oh, Fabio, mancia una ragazza. Guardate quanto è bella. Perché il sì, che ci ha avuto sempre belle ragazze. E anche intelligenti. Soprattutto. Ti voglio bene, lo sai. Anch'io. Ciao. Bacio. Ciao. E l'ho fatto conosci pure la mia ex. Fabio, sei una persona fantastica. Antonio Betre...